Allora, stiamo parlando di reintroduzioni in natura, sono viaggi della speranza, in realtà dopo riescono, per lo più riescono queste reintroduzioni, avete anche delle tigri per esempio. Dunque è giusto dire che quando si reintroduce un animale in natura comincia una nuova storia e quella storia va anche seguita perché non è scontato, ci sono stati casi che ho seguito come studioso dell'argomento sul cavallo di Prevatsky in Mongolia che era estinto quasi totalmente grazie agli allevamenti che facciamo nei più evoluti parchi zoologici d'Europa siamo riusciti a mettere insieme una ventina di animali selezionati geneticamente, rimessi in natura, questi animali sono stati attaccati da un tafano che ne ha uccisi inserendogli un parassita di cui loro non avevano una risposta immunitaria, ne ha uccisi quasi la metà e questo è avvenuto subito nelle prime settimane di dare il rilascio, tanto che eravamo pessimisti abbiamo detto qui abbiamo fatto tutto questo lavoro di allevarli, riportarli lì, preparare la popolazione locale a raccoglierli eccetera e poi in realtà quello che stava succedendo era che una metà non ce l'ha fatta però l'altra metà ha cominciato invece ad avere una reazione immunitaria e quelli non solo sono sopravvissuti ma oggi ci sono circa 300 di questi cavalli, si sono riprodotti e hanno ripopolato questi deserti della Mongolia che sono, lo ricordo, tra i più estremi ambienti naturali, per estremi intendo quelli che hanno la più alta escursione termica, vanno praticamente a meno 30 in inverno con tempeste di neve tremende ma essendo un deserto di ciotoli e di sassi vanno addirittura a quasi più 40 d'estate quindi questa escursione da 70 gradi e sono pochissimi gli animali che riescono a resistere, c'è un micro gruppo di cammelli della Batriana o cammelli proprio della Mongolia che resistono e questi cavalli che sono mammiferi attrezzati per diventare 30% più grassi alla fine dell'estate e poi stare fermi in inverno, consumare il meno possibile dentro nelle tempeste di neve, resistere gli inverni e arrivare alla primavera in cui torneranno a mangiare quindi sono incredibili. Sono animali e straordinari, ma come può avvenire un reinserimento in natura a queste condizioni estreme se sono nati, cresciuti in climi completamente diversi? No, perché sono geneticamente predisposti. Quindi non hanno, non subiscono? No, no, sono come i bisonti sanno cercare nei germogli sotto la neve la loro sussistenza, anche questi hanno la capacità di adattarsi all'ambiente in modo geneticamente già predefinito. Quindi sono progetti che hanno avuto in letteratura scientifica un buon successo e quindi noi continuiamo su questa strada e questo vale anche ovviamente per gli avvoltoi e per quei grandi volatori come il grifone e le altre specie, insomma Monaco, adesso per il momento un po' meno risultati abbiamo sul capovaccaio che è un po' più fragile, ma ricordiamoci che uno degli elementi di insuccesso, abbiamo parlato dei parassiti del cavallo, ma in realtà uno degli elementi gravi di insuccesso è dato dal braconaggio ancora. Il braconaggio è ancora molto alto, pensiamo che quando parliamo di trasvolatori, ecco questo è il grifone per esempio, questo è un sito italiano, qui siamo a Forgaria nel Friuli, un posto che vi invito ad andare a visitare, questo è a tre metri di apertura all'area, pensate che lui nasce a febbraio che è un pulcino di 160 grammi per diventare ad agosto, un animale enorme di 3 metri di apertura all'area e circa 9 kg di peso, questo è il primo volo, questo che vedete è il suo primo volo nel sito di rilascio appunto tra le prealpi carsiche, qui siamo vicini a Gemone, a San Daniele per capirci, nel Friuli ed è uno dei siti in cui vivono gli avvoltoi, qui vedete la colonia di Avvoltoi, una colonia popolatissima, sì, affollata, anche perché questo sito è autorizzato in deroga a un principio europeo ad avere quello che si chiama il carnaio, cioè un sito dove vengono portati i cadaveri di animali che possono morire da incidenti stradali o lì vicino c'è ovviamente gli allevamenti dei maiali di San Daniele, noto per i prosciutti e quindi quando muore qualche animale viene portato su questo sito di rilascio, quindi questo diventa un aiuto che viene dato alla fauna selvatica ma un aiuto che serve soprattutto nelle fasi iniziali, poi questi animali che si disperdono oggi in territori giganteschi e trovano altri cadaveri che sono in questo periodo quelli che muoiono anche da slavine per esempio, quindi c'è oggi una nuova anche cultura umana che evita di togliere i cadaveri dall'ambiente perché i cadaveri danno a mangiare non solo ai grifoni ma tutta una serie di altri necrofagi, sciacalli e poi tutti gli insetti che smontano i cadaveri insomma quindi... perché i grifoni si nutrono esclusivamente di cadaveri? esclusivamente, esclusivamente... quindi non di magari topi leprotti... no 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 non sono attrezzati per catturare animali vivi quindi state tranquilli anche quando li vedete non sono pericolosi per nessuno, non è un'aquila che invece fa quel lavoro di essere un predatore, un super predatore... ma voi aquile ne avete al parco naturalmente? noi abbiamo puntato sugli avoltoi perché erano molto più in difficoltà delle aquile... perché quindi voi cercate quegli animali che si trovano in difficoltà... esattamente, in realtà come specie con un declino fortissimo essendo proprio stati scambiati in passato come animali pericolosi anche per l'agricoltura eccetera immagino il contadino che vedeva questi tre metri di di agliante che gli girava sopra con le sue galline magari eccetera si impauriva e sparava quindi sono stati esterminati, letteralmente esterminati. Quindi questo torna al solito discorso di cultura, fare cultura, fare informazione. Ci sono due messaggi che sono arrivati che non sono riuscita a leggere, vediamo se della ricia ce li mettono in onda un attimo. sono stato al parco Natura Viva con i miei due figli ed è un posto splendido che consiglio a tutti, scrive Gianni da Padova. Immagino che effettivamente è una bellissima esperienza anche per i bambini ma anche per gli adulti secondo me. Buongiorno, ci sono giorni speciali a prezzi ridotti? Grazie, questo credo sia sul sito. Qui ahimè sono un po' preparato. No, ti consiglio di guardare il sito internet. Però il sito è aggiornato a tutte le esterine. Diciamo che un'eredità della pandemia è che abbiamo reso possibile a tutti l'accesso con il biglietto già in mano, quindi senza fare code particolari, quindi abbiamo fatto in modo sia i biglietti d'ingresso che altre opportunità come i compleanni, come eventi eccetera, si possono tutti prenotare online e questo diciamo così è un'eredità della pandemia. Ecco, la nostra regia è riuscita a trovare subito il sito. Parcolaturavia.it, potete trovare tantissime informazioni su questo. Sono tornate le scuole, ecco questa è una bellissima notizia, ho fatto io ieri la guida alla prima scuola venuta. Mi piace il fatto di avere così un contatto con i ragazzi che sono stati due anni anche per loro di penitenza forte, oggi insomma rivederli al parco entusiasti e così insomma correre nei nostri viali devo dire che anche per noi è stata una grande soddisfazione. Vabbè immagino sia effettivamente molto molto bella. Un'altra cosa, c'è un'altra specie che è il bradipo che voi avete curato in modo particolare ma c'è anche un aneddoto da raccontare relativamente a una nuova nascita, a un arrivo che ha portato con se ci racconti. Ma sì, i bradipi in realtà appartengono a specie ancora abbastanza comuni in Centro America però hanno un problema serio che sta emergendo, cioè questa loro capacità di arrampicare li porta ad arrampicarsi molto spesso sui pali della luce e questo porta a una folgorazione di un numero altissimo di animali ogni anno. Ecco questo piccolo, nato come vedete curato dalla mamma, questi sono animali che hanno dell'incredibile. Ho una storia da raccontarvi su questo, quando sono stato giù in Costa Rica parlando con gli entomologi cioè con gli esperti di insetti, ho scoperto un fatto che non conoscevo e ve lo racconto così come l'ho verificato poi sul campo. Cioè sul pelo di questo animale vive una farfalla e gli etologi si facevano una domanda di come mai questo animale che vive a 15-20 metri da terra molto spesso scenda dall'albero per depositare i suoi escrementi a terra. Perché non li può fare stando a 20 metri da terra? Il bradipo, giusto? Il bradipo. Ebbene la risposta è che la farfalla depone le sue uova negli escrementi e quindi lui fa un favore rischiando anche la propria vita perché scendendo a terra può trovare il giaguaro può trovare dei predatori, quindi rischia la propria vita scendendo dall'albero facendo i suoi escrementi e consentendo così alla farfalla che vive nel suo pelo e lo mantiene diciamo sgombero dai parasseti di darle questo favore, di potersi riprodurre e questo mi è piaciuta molto questa storia perché è una storia di diciamo simbiosi, convivenza, reciproco vantaggio che a volte non conosciamo e bisogna studiarla a fondo. Ci sono voluti molti anni per riuscire a capire che questa storia funziona. Bellissimo. Questi parchi dovrebbero essere patrimonio dell'umanità, etapa obbligatoria per tutte le famiglie per portare i bambini. Ci dovrebbero essere giornate aperte al pubblico gratuite come per i musei. Comunque bravi. Giornate gratuite è una riflessione che abbiamo fatto anche noi e tenete conto che in questo momento è l'unica fonte di sostentamento che abbiamo, sono i visitatori. Voi avete tantissime spese per alimentare gli animali. Il parco Natura Viva oggi ha un costo di circa 17-18 mila euro al giorno, per darvi un'idea, per 365 giorni. E anche l'energia elettrica. Quindi energia elettrica, poi insomma soprattutto una cosa su cui abbiamo puntato molto è la specializzazione delle persone che lavorano e queste ovviamente hanno anche dei salari importanti e ci sono costi importanti per la formazione anche di queste persone. Quindi è un posto complesso. Per il momento oggi noi siamo molto vincolati alla presenza dei visitatori. Io mi auguro che venga il giorno in cui un riconoscimento del ruolo di pubblico interesse che questo parco ha, come altri in Europa hanno e hanno ottenuto, possa vincolarci un pochino meno, non perché i visitatori non siano importanti, ma perché sono d'accordo con la persona che ha scritto questo messaggio. Mi piacerebbe, ecco, risse un giorno in cui potessimo dire, non so, due mesi all'anno il parco fa entrare gratuitamente i visitatori in maniera di far percepire a tutti questo enorme patrimonio che è la biodiversità, farla vedere da vicino e far capire soprattutto le nuove generazioni quanto è importante proteggerlo. Se vuoi un fattore culturale, diventa molto molto importante. Prima di passare alla pubblicità volevo chiudere un po' il capitolo del Bradipo, perché questa Bradipa aveva con sé un piccolino, è vero? Cioè quando è venuta da voi, è così? Sì, sì, esatto, esatto. Ma lo sapevate? O è nato da voi? No, è nato da noi. Quindi lei era incinta? Era incinta, è nata da noi. Ovviamente adesso, come succede per tutti gli altri animali, una volta che sarà svezzata, dovrà abbandonare i genitori, come è giusto che sia, e questo avverrà nell'arco di un paio d'anni. Quindi chi venisse in questa stagione a vederla, credo che con un minimo di osservazione, perché non è facilissimo, devo dire, da fotografare, ogni tanto alza il musetto dal pelo della madre. Quindi sta sempre lì. Per il momento, quando è così piccola, sì, man mano che cresce ovviamente la situazione cambia. Certo dovete pensare che sono animali che vivono a testa in giù. Chi avrà pazienza di vedere anche il loro pasto, si accorgerà che l'animale mangia con la testa completamente rovesciata lì indietro, che per noi sembra una contorsione quasi impossibile, eppure è una vita rovesciata. Quindi è un animale affascinantissimo, insomma, che ha delle sue caratteristiche uniche in natura. Perfetto. Torniamo su questi temi e dentro la pubblicità.